gentili telespettatori buona giornata sul su quello che sta succedendo nel movimento 5 stelle il pd adesso teme l'assist alla destra se si sfaldano a rischio anche il voto sul col e loro pensano il pd pensa ovviamente non agli italiani ma l'elezione del presidente della repubblica le alleanze queste cose qui se avete notato giorgia meloni e salvini hanno non hanno commentato questa cosa stanno pensando ai problemi degli italiani mentre il pd sta pensando ai problemi del partito letta dice dialoghiamo ma finché non sappiamo chi è il capo chi è l'ore sei tu l'ore sono preoccupato per gli effetti di una potenziale deflagrazione dei gruppi parlamentari dei 5 stelle nell'elezione del presidente della repubblica guardate cari pdini che ai 5 stelle non frega nulla nell'elezione del capo dello stato a quelli interessa solo come fare a mantenere lo stipendio questo è l'unico che l'unica cosa che interessa i grillini ci posso mettere veramente scommettere ecco sono le 5 e mezza del pomeriggio di ieri enrico letta come mezzo gruppo dirigente del pd ascolta le parole di conte e dicono siamo messi proprio male sono preoccupato dice per gli effetti di una potenziale deflagrazione dei gruppi parlamentari dei 5 stelle nelle elezioni del presidente della repubblica così si complicherebbe la vicenda del quirinale si darebbe un assist alla destra già non sono le regionali calabresi a impensierire enrico letta ma le elezioni del presidente della repubblica le amministrative non gli interessano dal momento che i grillini hanno deciso di correre da soli a napoli che corrono da soli che facciano quello che hanno voglia esattamente ciò che voleva letta idem sono la guida della coalizione antidestra che verrà idem sono la guida se arriva se giuseppe conte si fa un suo partito porta via a voti al pd il pd dal 18 scende al 12 e il primo partito diventa probabilmente quello di conte pertanto caro caro letta e caro pd la guida non sarebbero idem idem diventerebbero un mezzo partitello ma la guida diventerebbe giuseppe conte ma il problema di conte che non c'ha voglia di fare un suo partito semplicemente non ha voglia vuole già trovare tutto pronto i suoi timori quelli di letta riguardano un'altra partita quella del quirinale quella che conta sette anni e vale per questa e per la prossima legislatura il segretario dem non ama lasciare nulla al caso vabbè insomma la partita con la p maiuscola lui interessa quello sognava una maggioranza ursola sognava di togliere forza italia al centrodestra e invece il berlusca si è flippato con la fusione con salvini l'invito a giorgia meloni quindi il portare forza italia nel centrosinistra non gli è riuscito di fare leggere pr di fare leggere pr di fare leggere pr di fare leggere prodi non gli è riuscito non gli riuscirà la sua politica fa acqua da tutte le parti non non ne azzecca una e adesso si attacca all'elezione del capo dello stato vincere almeno lì ma il centrosinistra e soprattutto il pd non ha i numeri non ha i numeri per eleggere il capo dello stato secondo gli ultimi numeri sempre che non siano cambiati il centrodestra avrebbe due parlamentari in più di vantaggio per eleggere il capo dello stato voi sapete poi che il capo l'elezione del capo dello stato è a voto segreto scrutinio segreto pertanto nelle urne quando vanno a votare i 945 parlamentari potranno votare anche paperino qui qua qua e cipalippa e la fata turchina pertanto il partito dice una cosa e poi nel segreto dell'urna ognuno dice a me piace di più quello e voto quello l'indicazione del partito a voto segreto non conta quasi nulla a questo affermano i parlamentari dem la dice lunga sul movimento non hanno capito che la partita più importante sul colle mi sa che il pd non ha capito nulla cioè per il pd i 5 stelle non hanno capito nulla che c'è una cosa importante l'elezione del quirinale letta sei te che non hai capito ai 5 stelle non gliene frega niente del quirinale quelli stanno pensando a come salvare lo stipendio tu letta lo stipendio poi ce l'avrai fisso mentre questi devono andare a cercarsi un lavoro devono andare a capire adesso che faccio dove mando il curriculum ma chi chiedo sono un ex onorevole ma quale onore ma quale onore enrico letta pur tenendo fermo il principio di non ingerenza auspica un happy end non un happy award ma un happy end per i 5 stelle ci io spero che trovino un accordo sotto il segno dell'unità e della responsabilità e poi aggiunge è importante che i 5 stelle si chiariscano una volta per tutte il fattore tempo è sempre più dirimente perché se le fibrillazioni trascinano ancora i 5 stelle nella loro rotta interna a farne le spese la stabilità del sistema nel suo complesso caroletta dopo le dimissioni di di maio da lì il movimento 5 stelle è entrato in un tunnel l come cantava caparezza no entrato in un tunnel e non è più uscito continuano a cercare l'uscita ma non c'è non c'è perché il movimento non ha delle basi solide non ha non ha obiettivi non ha niente l'unico obiettivo è salvaguardare gli stipendi ed è difficile che qualcuno si carichi in un futuro questi politici per caso sono arrivati per caso in parlamento e se ne andranno nel silenzio totale dice come facciamo a mantenere i 13.000 e cari amici miei non se vole non se vole come diceva bom un se vole non si può dovete cercarvi il lavoro date un po fare un giro in centro e lasciate il curriculum nei negozi di scarpe di abbigliamento dice lei chi è sono un ex onorevole vorrei fare il commesso provate magari qualcuno vi assume il vip nel negozio a vendere i maglioncini beh il governo draghi poi l'agenda vedremo vedremo quello che succederà dopo c'è un'altra parte che ve la racconto nel prossimo video arrivederci a tutti e grazie ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video sempre qui sul canale arrivederci ricordateci ricordatevi che c'è tele italia seconda rete qui su youtube che è l'altro mio canale al quale potete iscrivervi iscrivervi gentilmente grazie a tutti